buongiorno amici buongiorno amiche oggi proviamo questo display da 9 pollici presente su amazon italia vi premetto subito che lui non ha il play store quindi funzionerà android auto wireless carplay wireless non basta non ci sono altre applicazioni preinstallate poi andremo a vedere il suo menu in questo momento siamo collegati via android auto wireless il collegamento è stato semplice è stato anche rapido vediamo se funziona il l'assistente vocale previsioni meteo domani a firenze a firenze domani ci sarà il sole con una massima di 37 gradi e una minima di 19 l'assistente vocale funziona ora in questo momento io ho messo la luminosità al massimo ma dal vivo non è molto impressionante questo pannello i neri non sono molto neri la luminosità lascia un po a desiderare è vero comunque che i colori si possono settare quindi magari è possibile migliorarli ho sentito l'assistente vocale dalle casse del display perché lui è dotato di casse integrate poi lo gireremo lo guarderemo per ora vi dico solo che ho utilizzato le casse integrate andiamo al vedete ogni volta devo toccare un paio di volte non è non è molto sensibile al tocco ecco qua adesso siamo al display principale qui ci dice che noi possiamo ascoltare il la riproduzione di android auto o della musica sulle casse della nostra automobili utilizzando il metodo fm sotto la voce applicazioni in realtà non c'è il play store ma ci sono le classiche applicazioni presenti su questi display dotati di linux e non di android vedete le opzioni legate alla retrocamera che è in confezioni poi ve la farò vedere la traduzione è abbastanza lascio un po a desiderare ma io fossi in voi la lascerei in inglese io ho messo italiano ma è un italiano che proprio italiano non è allora oltre a il collegamento via fm voi potete collegarlo alle casse della vostra auto attraverso il cavo audio che è presente in confezione ed è questo qui maschio maschio poi in confezione c'è questo supportino c'è questo adattatore poi vi c'è un primo supporto per se lo volete fissare non quella ventosa ma con un adesivo con delle liti è di plastica abbastanza scarsa sinceramente non mi impressiona per qualità poi oltre a questo c'è un adatta un una possibilità di fissarlo al al vetro con questo adattatore poi chiaramente dovete agganciarci questo anche questo la qualità non mi impressiona suona a vuoto in confezione c'è solo una ventosa di solito sui display di qualità c'è anche una ventosa di ricambio poi sempre in confezione c'è una retrocamera con il cavo non vi so dire quanto sia lungo il cavo non l'ho montata sembra di discreta qualità ma anche questa sicuramente non è un top di gamma il caricatore è fatto abbastanza bene il problema che secondo me c'è un un cavo un po corto ho trovato caricatori naturalmente per caricarla dovete collegarlo al mal accendi sigari il caricatore quindi al cavo un po corto però a due prese usb quindi nel momento in cui voi collegate l'alimentazione di questo display al al vostro accendi sigari lui vi metterà a disposizione integrate nel caricatore due prese usb e questo sinceramente è una cosa da apprezzare allora android auto l'abbiamo visto abbiamo dato una scorza alle alle opzioni anche qui vedete una una traduzione un po un po che lascia a desiderare carta da parati la versione del software è abbastanza aggiornata vedete ho messo al massimo la luminosità ma credetemi dal vivo non è impressionante le casse sono discrete quelle integrate ma comunque niente di speciale ecco fatto non è che ci sono altre altre opzioni ok sinceramente è un prodotto che a 100 euro non consiglio perché ha un display abbastanza scarso e poi si vede anche insomma questa traduzione che non è un granché gli accessori sono di una plastica abbastanza debole di scarsa qualità quindi non me la sento di di consigliarvelo certo se dovesse andare in forte sconto magari sui 60 euro avendo anche una retrocamera in confezioni e se la retrocamera vi serve allora può essere un prodotto interessante però sinceramente ho visto pannelli molto migliori e trovate la recensione sul sul canale cina deals e salutiamo anche pasqui che naturalmente ci ospita nel suo nel suo canale io direi che abbiamo detto quasi tutto se avete delle domande fatele nel box dei commenti speriamo che il prossimo prodotto sia meno deludente ma noi come sapete ve lo dovevo far vedere ve l'avevo promesso quindi da questo lato vedete c'è l'ingresso per l'espansione di memoria c'è l'ingresso anche se volete inserire una usb per ascoltare musica sopra non c'è nulla questo qui non è impulsante perché non è non può essere premuto qua non c'è niente sotto non c'è niente dietro c'è una piccola cassa integrata quindi vi confermo che non è niente di speciale questo display ciao a tutti